Diritto commerciale, video lezione numero 61. I contratti bancari parte prima. In questa video lezione tratterò i seguenti argomenti. L'attività bancaria, i contratti bancari, le operazioni passive, il deposito bancario, le operazioni attive, l'apertura di credito, l'anticipazione bancaria e lo sconto bancario. Parliamo dell'attività bancaria, quindi i contratti bancari. L'attività bancaria è essenzialmente un'attività di intermediazione nella circolazione del denaro. La banca svolge due tipi di attività principali, che sono l'esercizio del credito e la raccolta dei risparmi dei clienti. La banca svolge anche operazioni accessorie, come ad esempio il servizio delle cassette di sicurezza e le concessioni di fideiussioni, e le operazioni parabancarie, come ad esempio la mediazione negli affari e l'acquisizione di partecipazioni societarie. Il settore bancario è regolato dal Decreto Legislativo 385 del 1993, ovvero il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, cosiddetto TUB, nonché da tutte quelle normative intervenute successivamente. I contratti bancari sono quei contratti con le quali le banche provvedono a procurarsi denaro o ad impiegarlo, ovvero a fornire servizi accessori. La banca pone quindi in essere sia operazioni passive che operazioni attive, entrambi aventi il carattere dell'onerosità, consistente nel pagamento degli interessi per l'attività svolta dalla banca. Sono operazioni passive quelle che assicurano alla banca la disponibilità dei capitali che poi redistribuisce. Il deposito, ad esempio, è la principale operazione passiva. Le operazioni attive, invece, sono quelle che erogano il credito. L'apertura del credito è, ad esempio, un'operazione attiva. La disciplina dei contratti bancari è regolata dal Codice Civile, integrata da norme bancarie uniformi, ovvero da condizioni generali di contratto predisposte dall'Associazione Bancaria Italiana, cosiddetta AB. Quanto alla forma dei contratti bancari, questi devono essere redatti per iscritto appena di nullità. La nullità, tuttavia, in tale fattispecie è relativa e pertanto può essere fatta valere solo dal cliente. A carico delle banche sono posti particolari obblighi di trasparenza che impongono l'osservanza di oneri pubblicitari relativi alle condizioni economiche delle operazioni e dei servizi offerti. Per trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari si intende un sistema di regole finalizzate ad assicurare al cliente un'informazione corretta, chiara ed esauriente che faciliti la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti. Parliamo ora delle operazioni passive. Il deposito bancario Con il deposito di una somma di denaro presso una banca questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi. Il deposito bancario è un contratto di deposito irregolare è un contratto reale, oneroso, a forma libera e con prestazioni a carico della sola banca. Si distinguono diversi tipi di deposito bancario i depositi semplici Tali tipi di depositi non possono essere alimentati da successivi versamenti e non prevedono la possibilità di prelevamenti parziali prima della scadenza. In questo caso il depositante mira solo a soddisfare un bisogno di sicurezza ed a liberarsi dell'onere della custodia del denaro. Poi abbiamo i depositi a risparmio questi depositi invece prevedono successivi versamenti e prelevamenti anche parziali purché avvengano in contanti. I depositi a risparmio sono rappresentati da un documento di legittimazione denominato libretto di risparmio che viene rilasciato dalla banca e sul quale vengono annotate le operazioni di versamento e prelevamento. Il libretto di risparmio si distingue in libretto di risparmio nominativo in questi libretti i versamenti ed i prelievi possono essere eseguiti solo dall'intestatario o da un suo rappresentante legittimato. Poi abbiamo il libretto di risparmio nominativo pagabile al portatore in questo caso i prelievi e i versamenti possono essere effettuati anche da soggetti diversi dall'intestatario e poi abbiamo il libretto di risparmio al portatore in cui le operazioni possono essere effettuate da chiunque. Con il decreto legislativo 90 del 2017 è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti nominativi con estinzione dei libretti al portatore entro il 31 dicembre 2018. I libretti di deposito al portatore sono pertanto estinti dal 1 gennaio 2019. Poi distinguiamo i depositi di conto corrente. In questo caso il depositante si riserva nel corso del rapporto di modificare l'entità del deposito con successivi versamenti e prelevamenti. Parliamo ora delle operazioni attive l'apertura di credito. L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dall'altra parte una somma di denaro a tempo determinato oppure a tempo indeterminato. L'oggetto del contratto in esame è quindi la messa a disposizione da parte della banca di una somma di denaro a favore del cliente che quest'ultimo dovrà restituire con gli interessi contrattualmente stabiliti allorquando utilizzerà effettivamente il denaro. La funzione che il contratto in esame è è quella di attribuire ad un soggetto il diritto di disporre di una somma di denaro che potrà usare quando ne avrà necessità. A sua volta la banca soddisfa il proprio interesse economico a ricevere un corrispettivo dal fido. L'apertura del credito è un contratto consensuale ad effetti obbligatori a forma libera è un contratto di durata e a prestazioni corrispettive. La distinzione principale tra l'apertura del credito ed il mutuo è rinvenibile nel fatto che col contratto di mutuo il mutuatario diventa immediatamente proprietario del denaro mentre con l'apertura di credito la proprietà del denaro si trasferisce solo dal momento in cui l'accreditato ne dispone. L'apertura del credito può essere semplice sia apertura del credito semplice quando l'accreditato può utilizzare la somma una sola volta anche se attraverso successivi prelievi parziali. L'apertura del credito può essere in conto corrente sia apertura in conto corrente quando l'accreditato può ripristinare la disponibilità nel corso del rapporto con versamenti e poi riutilizzare nuovamente la somma mediante prelievi. L'apertura del credito può essere allo scoperto cioè avviene quando l'apertura del credito non è accompagnata dalla prestazione di una garanzia oppure può essere garantita. Nell'apertura del credito garantita la banca esige delle garanzie che possono essere reali o personali. Le modalità di utilizzazione del credito sono rimesse alla determinazione delle parti. In difetto di determinazione delle parti si applica l'articolo 1843 del Codice Civile quindi l'accreditato può utilizzare in più volte il credito secondo le forme d'uso e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. Per l'estinzione dell'apertura del credito si applicano le cause comune a tutti i contratti di durata. Per quanto riguarda il recesso invece si distingue se l'apertura di credito è a tempo determinato o indeterminato. Se è stata effettuata a tempo determinato la banca può recedere prima della scadenza del termine solo per giusta causa. Il recesso in questo caso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzazione del credito. La banca deve comunque concedere almeno 15 giorni al cliente per restituire le somme utilizzate. Se il contratto invece è a tempo indeterminato ciascuna delle parti può recedere mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto dagli usi o in mancanza in quello di 15 giorni. Parliamo ora dell'anticipazione bancaria. L'articolo 1846 del Codice Civile disciplina l'anticipazione bancaria come forma particolare di finanziamento caratterizzata dal fatto di dover essere necessariamente garantita da pegno di titoli o di merci con valore di facile accertamento. L'anticipazione bancaria costituisce una delle forme di esercizio del credito che la banca può compiere in conformità agli articoli 10 e 11 del TUB. La funzione dell'anticipazione è analoga a quella svolta dall'apertura di credito bancario e consiste che il soggetto che lo chiede ha il diritto di disporre quando ne avrà bisogno di una somma di denaro. Tuttavia in questo caso esiste ex legge una garanzia a favore della banca. Il pegno che rappresenta la garanzia per la banca può essere costituito alternativamente o cumulativamente da titoli o merci che vengono consegnati alla banca dal debitore a garanzia della restituzione delle somme di denaro. Dal momento che il contratto si perfeziona con la consegna dei beni costituenti la garanzia la sua natura è quella di contratto reale. Il pegno dato in garanzia può essere regolare o irregolare. Si ha pegno regolare quando la proprietà delle merci o dei titoli rimane all'accreditato. Si ha pegno irregolare invece ogni qualvolta il debitore costituisca in pegno una cosa fungibile con la conseguenza che la proprietà della cosa si trasferisce al creditore. Quest'ultimo una volta estinto il debito deve restituire cose dello stesso genere e nella stessa quantità. L'anticipazione bancaria è un'operazione complessa costituita da due distinti negozi in combinazione tra di loro ovvero uno di credito e uno di garanzia. Il collegamento tra i due negozi viene attuato sulla base di un rapporto di proporzionalità tra il credito e il valore del pegno. La caratteristica dell'anticipazione bancaria è la conservazione della proporzionalità tra il credito concesso e la garanzia pignoratizia durante tutto il rapporto. Ciò significa che quando la garanzia diminuisce di almeno un decimo la banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia per ripristinare il criterio di proporzionalità. L'anticipazione bancaria si distingue in anticipazione semplice e anticipazione in conto corrente. Con l'anticipazione semplice il cliente prima della scadenza stabilita dalla banca ha la facoltà di restituire totalmente o parzialmente la somma e contestualmente ritirare totalmente o parzialmente il pegno dato alla banca. L'anticipazione in conto corrente invece in questo caso la banca mette a disposizione il denaro ed il contraente ha facoltà di prelevarla anche più volte e di ricostituire con successivi versamenti la disponibilità originaria. Parliamo adesso dello sconto bancario ai sensi dell'articolo 1858 lo sconto bancario è configurato come un prestito che la banca concede allo scontatario per anticipargli l'importo di un determinato credito che quest'ultimo ha verso un terzo contro la cessione prosolvendo del credito stesso. La banca trattiene un compenso corrispondente al saggio dello sconto con il contratto in esame è soddisfatto l'interesse del cliente di ottenere denaro quando ne ha immediato bisogno è soddisfatto anche l'interesse della banca di lucrare un vantaggio economico su tale anticipazione. Gli elementi essenziali del contratto di sconto bancario sono la causa e l'oggetto la causa di tale contratto è data da una cessione prosolvendo e dallo sconto con riferimento alla cessione prosolvendo si evidenzia che lo sconto è nullo quando non vi è garanzia del cedente che rappresenta l'elemento causale del negozio con riferimento allo sconto invece si evidenzia con l'espressione sconto ciò che viene ottenuto dalla banca dall'operazione quindi il lucro dalla banca ottenuto da questa operazione esso è costituito dalla differenza tra l'ammontare del credito e la somma effettivamente corrisposta al cliente altro elemento essenziale appunto era l'oggetto l'oggetto del contratto di sconto può essere teoricamente qualsiasi credito cartolare non cartolare tuttavia nella prassi bancaria vengono scontati quasi esclusivamente gli effetti cambiari dalla causa del contratto così individuata discendono gli obblighi principali dello scontatario che consistono nel pagamento degli interessi alla banca e nella restituzione della somma anticipata dalla banca dices di di pat